È morto il grande Pino Daniele, uno dei più grandi cantautori della storia della musica pop italiana degli ultimi 40 anni, è morto a 59 anni per un infarto, ovviamente improvviso, anche se Pino Daniele soffriva da anni di cardiopatia e aveva subito anche degli interventi di bypass, se non erro. È morto nella sua casa in Toscana, a Magliano, è stato trasportato d'urgenza, così l'abbiamo letto, al Sant'Eugenio ospedale qui a Roma, all'Eur, però è arrivato in condizioni disperate, in condizioni ormai irrecuperabili e ci ha lasciato uno dei più grandi, ripeto, cantautori italiani della storia. Pino Daniele adesso ci saranno senza dubbio le onorificenze massime per questo grandissimo musicista, non soltanto napoletano, musicista internazionale, un musicista che ha amato la sua Napoli, l'ha portata all'ausannata, ma ha amato anche e soprattutto la musica, una musica contaminata di tantissimi stili, dalla musica blues alla musica jazz, alla musica pop, alla musica napoletana stessa, una musica fatta di ritmo, di melodia, ha lasciato centinaia di canzoni stupende, album strepitosi, un'opera vastissima che fa concorrenza anche a quella di Battisti, di Lucio Dalla, anche Lucio Dalla morto di infarto, anche Manco, come non ricordarvi, il collegamento è immediato, morto Joe Cooper qualche settimana fa di infarto, l'infarto rimane comunque, i problemi cardiocircolatori, la morte per problematiche cardiocircolatori rimane comunque ancora la prima causa di morte in Italia e al mondo. Quindi Pino Daniele, stanotte si è sentito male, questa mattina alle ore piccole è morto, andiamo a ricordare brevemente e poi ci faremo altri aggiornamenti su questo che è successo, Pino Daniele, le canzoni principali nel 1976, la prima canzone è che calore fortunato nel 45 giri segue il successo con Natanzulelle, Caffè e Napolè, Iso Pazzo vuole essere all'eserale del 79, ma per gli album diventa, si afferma con gli album nel 77, per Rania, 79 Pino Daniele, nell'80 nero a metà, grande successo, ma l'album decisivo è Paimo, primo in classifica per settimane, tantissime settimane, a sorpresa, molti di noi si meravigliavano del fatto che un cantante napoletano potesse stare cantando il napoletano per così tante settimane nella classifica della hit parade, appunto nelle hit degli album per settimane intere, poi ho comprato il vinile, l'abbiamo sentito e io sinceramente mi sono reso conto della bellezza delle sue canzoni, tutte stupende, per esempio in quell'album, ma non solo, si cantavano in ogni posto e ancora adesso rimane uno dei principali, cantautori italiani, uno dei più cantati, dei più ammirati, dei più amati, dei più copiati e dei più osannati. Andiamo a vedere altri successi, Bella Briana dell'82, poi si evolve la sua musica dell'84 con Musicante, Ferry Bond dell'85, Bon Suarez, Ziziegui Lop, Masca Zoni Latino, fino ad arrivare con gli anni 90 che è Dio di Benedica, collaborazioni importanti, con Giorgia, con Giovanotti, con Ramazzotti, con Cicco Ria, grande pianista italo-americano, con Pat Metini, grandissimo guitarista jazz, album come Medina, con un angelo all'equatore, Dimmi cosa succede sulla terra, che Dio di Benedica, insomma, centinaia di canzoni che andiamo ad approfondire dopo, ma cominciamo a pubblicare questa prima notizia, purtroppo ci ha lasciato Pino Daniele per un infarto a soltanto 59 anni. Ciao.